un saluto caro amici extreme hardware quest'oggi non parliamo di periferiche non parliamo di hardware ma parliamo di qualcosa di più importante ovvero la salute della nostra vista lo facciamo analizzando e dando uno sguardo da vicino agli occhiali anti luce blu quindi con il filtro della luce blu prodotti e commercializzati da no wave che è un'azienda completamente italiana avente sede a genova che cos'è la luce blu praticamente tutti gli schermi che utilizziamo quotidianamente dallo schermo del computer a quello del nostro smartphone emettono una luce blu che praticamente ha un'ampiezza che varia a un raggio di ampiezza che varia tra i 380 nanometri e i 500 nanometri che è responsabile delle disfunzioni nella produzione di melatonina e questo cosa cosa comporta comporta che a lungo andare il nostro organismo può presentare delle disfunzioni per quanto riguarda la regolarità del sonno quindi potremmo soffrire di insonnia abbiamo i classici occhi rossi dopo tanto tempo che stiamo davanti al monitor si può presentare dell'astenopia quindi un affaticamento proprio della vista oppure addirittura arrivare a un offuscamento di quello che è il cristallino dell'occhio quindi tutte sensazioni ovviamente poco piacevoli che tra le altre cose fanno proprio male alla nostra vista in aggiunto ovviamente tutti questi 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 aspetti vanno anche ad influire su quella che è proprio la nostra stanchezza proprio come persone quindi aziende come non wave ci vengono incontro producendo questi tipi di occhiali che hanno un filtro per quanto per quanto riguarda la luce blu e quindi rendono l'esperienza di utilizzo di monitor o telefoni e quant'altro sulla lunga durata sicuramente meno faticoso e meno affaticante per quanto riguarda la vista questi occhiali ci arrivano direttamente a casa all'interno di questa piccola confezione bianca con il logo dell'azienda all'interno della quale c'è un'altra custodia rigida tra l'altro ben fatta anche esteticamente con la chiusura magnetica all'interno di quest'altra custodia troviamo il panno bianco per pulire le lenti degli occhiali e una un sacchetto con il logo non wave dove riporre gli occhiali sul sito internet del produttore quindi no wave official punto com abbiamo la possibilità di vedere tutti i vari modelli a disposizione quindi con le varie montature con le specifiche tecniche per ogni singola lente e quant'altro e abbiamo anche la possibilità di personalizzare in fase di acquisto perché è possibile acquistare questi prodotti ovviamente anche dallo store presente sul sito no wave official questi per esempio con 60 euro li portate a casa avete la possibilità di personalizzare le lenti abbiamo ovviamente la possibilità di inserire modelli con lenti graduate o neutre come in questo caso volendo possiamo anche scegliere l'opzione per averle fotocromatiche in fase di acquisto personalizzate il vostro occhiale quindi con la vostra lente con le vostre esigenze e poi andate all'acquisto abbiamo in prova dei no wave il modello yoga sono occhiali estremamente leggeri ci sono stili per tutti i gusti molto moderni e tra l'altro anche sono anche piacevoli da vedere il la montatura è in tr 90 che è praticamente una lega tra nylon e fibra di carbonio che adesso viene utilizzata moltissimo perché rende praticamente molto molto mobile c'è questo effetto bending per quanto riguarda le aste della montatura con in fondo una una gomma anti scivolo quindi questo tr 90 rende molto leggera queste questa montatura questi occhiali e facilita ovviamente il fatto che non si possano rompere facilmente le lenti in questo caso neutre sono in cr 90 che è un polimero e in questo caso abbiamo delle lenti che sono al 100 per cento filtranti per quanto riguarda la luce ultravioletta e al 40 per cento filtranti le la luce blu quindi praticamente quando noi indossiamo i nostri occhiali possiamo stare davanti allo schermo per molto molto tempo anche se comunque ecco sempre consigliato prendersi delle pause ogni tot di tempo quando utilizziamo il i monitor e il computer e questi occhiali ci vengono incontro salva guardando quella che è proprio l'integrità dell'occhio e soprattutto proprio anche le nostre abitudini per quanto riguarda la sonnolenza e quant'altro io ce le ho in prova da ormai due o tre settimane tra l'altro ringrazio no wave per avermi li mandati e mi scuso con loro per averci messo un po per fare queste recensioni ma tra lavoro e una cosa e l'altra è stato un po un'impresa a far incastrare tutto personalmente essendo io uno che vive un milione di ore davanti al monitor tra appunto lavoro recensioni e quant'altro smartphone e quant'altro questi sono sicuramente venuti mi aiuto e sento realmente che l'occhio è meno affaticato arrivo a fine giornata che non ho gli occhi che sembrano due uova rossi con le lacrime piuttosto che anche per quanto riguarda la stanchezza proprio fisica perché molti di voi avranno anche questa esperienza nello stare davanti al monitor e a fine giornata sentirsi stanchi morti questi alleviano un minimo questa sensazione sicuramente ci vengono in aiuto io li ho trovati veramente utili può sembrare una sciocchezza ma vi dico che in realtà funzionano ci sono monitor che hanno integrato ormai in realtà molti monitor hanno integrata questa funzione per il filtraggio della luce blu ci sono software che consentono di farlo però sinceramente io ho provato molti di quei software e anche di quei monitor una soluzione come questa è sicuramente più comoda perché ci spostiamo da un device all'altro e non dobbiamo tutte le volte andare a impostare certi filtri o cosa se abbiamo gli occhiali indosso possiamo utilizzare questi per tutto quanto e anche all'effetto visivo spesso e volentieri quei software vanno ad ingiallire completamente quella che è la pagina mentre con questi occhiali si ha una sensazione di ingiallimento minimo per quanto riguarda l'esperienza visiva però ragazzi ci aiutano a salvaguardare la vista io li consiglio perché si possono acquistare sul su amazon e non hanno un costo molto molto elevato ci sono di vari prezzi dai 35 ai 60 euro circa e quindi per un prezzo del genere secondo me vale assolutamente la pena di provare questi occhiali che per appunto 30 40 50 euro possono veramente venirci incontro e farci dormire sogni tranquilli da una parte e salvaguardare un po la salute dei nostri occhi che passano troppe ore davanti ai vari schermi per la recensione completa con immagini e quant'altro vi rimando al link in descrizione per quanto riguarda questa video recensione è tutto da angelo e dalla redazione di extreme hardware un saluto ciao a presto